Mertens, è scattato Kulamma, per il momento lo ignora Mertens, cerca Iguain in acrobazia, Iguain! Non è vero! Non è vero! Non è vero! Non è vero Mauri! 36! Nessuno come lui! Ma non è vero, è vero! Ma è impossibile così! Il 36esimo così! La tripletta con questa giocata! Ma questo è un film! Ma questo è un film! Non è vero! Ditemi che è un copione! È impossibile! Ma che giocata ha fatto? Ma andiamo via! Cosa dobbiamo dire? Che giocata ha fatto?